Semplice e super golosi questi bomboloni a forma di zucca sono davvero molto particolari ma quanto sono golosi veramente tanto io ho deciso di farcirli con la crema pasticcera ma nessuno vi vieta di farcirli con gli ingredienti che più vi piacciono vi do un'idea marmellata crema di pistacchio crema di nocciola e così via cosa aspettate consiglio di provarli subito sono davvero super golosi andranno a ruba comincio preparando il lievitino con 50 ml di acqua a temperatura ambiente e 12 grammi di lievito di birra fresco 7 grammi se si utilizza il lievito di birra secco mescolo con 50 grammi di farina copro con la pellicola da cucina lascio lievitare per 30 minuti nel frattempo grattugio la buccia di un'arancia mi servirà per l'impasto trascorsi il tempo trasferisco il lievitino nella ciotola capiente unisco 30 ml di lati a temperatura ambiente e 3 cucchiai di farina presi dal totale inizia ad amalgamare sbatto un uovo intero medio più un tuorlo a temperatura ambiente unisco metà dose al composto e metà dose di zucchero continuo a mescolare questi ingredienti aggiungo altri due cucchiai di farina procedo mescolando infine verso l'altra metà delle uova il restante zucchero 5 grammi di sa e la restante farina ottengo un impasto sostenuto termine inserendo 40 grammi di burro morbido e la buccia grattugiata dell'arancia lavoro per circa 10 minuti mi sposto sul piano da lavoro sbatto più volte in questo modo fino a quando l'impasto risulterà elastico e liscio a rotondo l'impasto trasferisco nella ciotola copro con la pellicola da cucina lascio lievitare per circa due ore trascorso questo tempo senza sgonfiare l'impasto crea un filone taglio in pezzi di circa 40 grammi taglio in pezzi di circa 40 grammi arrotondo ogni pezzo e forma una pallina utilizzando lo spago da cucina incrocio in questo modo sistema le palline nella teglia da forno coperta con carta forno e leggermente infarinata copro con la pellicola da cucina lascio lievitare per un'ora taglio in olio di arachidi taglio in olio di arachidi ben caldo fino a quando risulteranno belli dorati poi scorso della carta assorbente rimuovo lo spago da cucina rotolo nello zucchero semolato falcisco con la crema pasticcera ed ecco a voi carissimi amici i bomboloni a forma di zucca sono buonissime e golosi e sfiziosi e la sua forma di zucca li rende unici e poi sono buoni sono belli belli da gustare a colazione o per la merenda o giusto per la sera di halloween cosa aspettate? consiglio di provarli ok 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 Grazie a tutti.